buongiorno buon lunedì 30 dicembre passato natale ci avviciniamo a capodanno speriamo di avvicinarci facendo dei bei botti nelle scommesse buongiorno a tutti io sono guru e come ogni settimana vi terrò compagnia allora devo dirvi due cosine intanto sarà una settimana particolare ovviamente ci sentiamo oggi ci sentiamo domani il mercoledì no perché credo che anche a voi faccia piacere iniziare l'anno sentendo la mia brutta voce quindi torneremo poi giovedì anche perché si tornerà a parlare anche di serie a il campionato di calcio italiano è stato fermo in questo periodo natalizio si è giocata la serie b soprattutto si è giocata come al solito tanta Premier League il Tour de Force natalizio del campionato di calcio inglese che fra l'altro torna in campo mercoledì 1 gennaio ne parliamo domani faremo uno studio con diversi punti per le scommesse oggi palinsesto un po' scarno però abbiamo comunque selezionato 4 free pick per voi ne potrebbero anche uscire ne aggiungerò se ne dovessero uscire in queste ore 4 erano anche le free pick che abbiamo dato venerdì ce le avevano lasciate con 4 giocate ne abbiamo incassate 3 comunque ne parleremo come al solito nella seconda parte del podcast e come al solito se volete schippare andare direttamente alla ciccia alle free pick trovate il minutaggio qui sotto io comunque vi consiglio di ascoltare tutta la puntata perché daremo diversi spunti anche nella prima parte e iniziamo proprio col programma calcio championship posticipo del lunedì sera a pride park per la 25esima giornata della seconda lega del campionato di calcio inglese il derby county attualmente 18esimo con 27 punti all'occasione di sorpassare proprio il chalton che è appena un punto avanti al momento a campi invertiti lo scorso ottobre fu 3 a 0 per il chalton oggi le quote però favoriscono il derby county dato a 1,83 anche perché gli ospiti hanno diverse defezioni nella propria rosa passiamo in galles 5 partite su 6 per la ventesima giornata della premier league gallese sono tutte in contemporanea alle 20 e 45 il turno si completerà domani alle 15 e 30 col posticipo penimbont contro karmarten tra le sfide di oggi attenzione a balatown contro carnafor ne parliamo dopo in free pick diamo uno sguardo anche alla classifica al momento comanda il tns con 41 punti davanti al connack che è a 40 poi c'è proprio il balatown a 38 cambiamo sport andiamo al ba andiamo con il basket in germania triplo appuntamento per la basketball bundesliga giunta alla 14esima giornata si inizia con una doppia sfida alle ore 19 anche se il big match più interessante è quello delle 20 e 30 alla brosa arena il bamberg attualmente al quarto posto ospita il bayern monaco capolista e campione in carica si giocano anche due partite per il lunedì di adriatic league alle ore 18 budu knost contro stella rossa la squadra di casa cerca di affiancare in vetta proprio il sede vita ospitando la squadra di belgrado la stella rossa che attualmente al settimo posto in classifica ma solo due punti sotto quindi una classifica di adriatic league davvero molto corta alle ore 21 si gioca anche mega bemax contro fmp padroni di casa ultimi in classifica ospitano la quarta forza del campionato quindi chiaramente favorita vi ricordo che per tutte le analisi e le giocate sulla palacanestro italiana ed europea canale telegram il presidente basket con gli studi quotidiani del nostro frariz frariz che lavora anche nel nostro canale sugli sport americani sul basket tembiei arriviamo dalla settimana di natale abbiamo regalato da mercoledì a domenica tantissime giocate che di solito escono nel canale vip le abbiamo date a tutti gli utenti nel nostro canale free vi ricordo di iscrivervi è gratuito il presidente sport usa se poi volete fare un passo in più e supportare il nostro lavoro e soprattutto ricevere ogni giorno tutte le giocate dei nostri 5 tipster su tutti gli sport americani potete entrare nel canale vip ci sono delle promozioni che vi fanno entrare a gratis quindi contattateci tra l'altro ve ne cito una c'è una bella promozione che scade domani potete comprare potete acquistare la nostra guida sugli sport americani 87 pagine in formato pdf con tante strategie su tutti gli sport usa dall'nba all'mls e in più avrete in regalo anche un mese di accesso gratuito al canale vip tra l'altro io ieri ho chiuso la stagione la regular season di nfl con un bel 6 su 7 ho dato 7 giocate ne ho prese 6 ho sfiorato l'all green sono andato a qualche centimetro dal 7 su 7 perché l'unico errore è stato si atto il seahawks più 3 e mezzo nel big match contro san francisco si atto l'ha perso ma all'ultimo secondo stava per mandarci in cassa peccato allora volevo volevo parlare anche di sport usa in questa rubrica del giorno dove di solito non trattiamo sport americani perché lo facciamo nel pomeriggio con sport usa news and tips che però torna con il nuovo anno torna la prossima settimana quindi inserirò sul bet italia web daily show un blocco anche di sport americani oggi parliamo di college football dicevamo sport usa news and tips torna la prossima settimana ma questa settimana ci sarà una puntata speciale di nfl betting room torna morfeo perché è finita la regular season di football americano e dobbiamo analizzare tutta la griglia dei playoff faremo il nostro bracket vedremo chi ne prenderà di più e soprattutto vi daremo le nostre giocate e i nostri consigli per le scommesse antepost della fase finale la post season di nfl va bene volevo parlare comunque di football americano di college football perché continuano in bowl alle ore 18 al general fort stadium in texas si gioca al first responder bowl che vede contrapposti western michigan e western kentucky al momento a me piace western kentucky meno 3 quindi vincente con un field goal di margine mi piace anche l'under 54,5 punti totali più tardi alle ore 22 italiane illinois contro california per il red box bowl da santa clara io qui farei attenzione al più 7 di linois da sfavorita e giocherei anche over 43,5 punti passiamo a louisville mississippi è il music city bowl da nashville in tennessee qui invece è meglio mississippi state che si può giocare a meno 4 punti di handicap e torno anche su una partita da under visto che la linea è molto più alta 63,5 infine l'orange ball la sfida più attesa tra virginia e florida e qui non è semplice perché florida è favorita con meno 14,5 punti di handicap oltre due touchdown di margine non saranno semplici da mettere insieme contro virginia mi piace di più ancora una volta l'under 54,5 punti queste sono solo prime idee tutti i dettagli come sempre li trovate nell'articolo di riferimento su betitalia web e ovviamente sul canale telegram il presidente sport usa e chiudiamo come sempre con l'hockey su ghiaccio 5 match per iniziare la settimana di continental hockey league alle ore 14.30 baris contro kunlun alle 15 ci sarà tractor contro onsk e poi alle 17.10 un trist di partite dinamominsk riga csk mosca yaroslav e jokerit podolsk insider è tornato a cavalcare quattro casse di fila prima di natale con la khl il suo rendimento è di 69 picche esatte 46 sbagliate più 29,75 unità di profitto su 261 investite è circa un ROI del più 11,40 per cento e passiamo alla seconda parte free pick come sempre andiamo a vedere i risultati c'eravamo lasciati come detto venerdì con quattro giocate ne abbiamo prese tre iniziamo dall'errore ambersa anderlecht il big match del campionato di calcio belga avevamo consigliato gol gol a 1,76 purtroppo è finita 0,0 letta male ci siamo però rifatti e lì i gol non sono mancati nella sfida tra wolverhampton e manchester city avevamo dato due giocate avevamo consigliato la combo over 2,5 più gol gol a 2,15 e anche l'over 3,5 a 2,38 sono entrate entrambe è stata una partita da 5 reti tra l'altro non sono mancate nemmeno le sorprese visto che il city ha perso infine ok KHL il nostro insider ci aveva consigliato la vittoria dello SCA nei tempi regolamentari in casa del nuovo Sibirsk quota 1,85 che è entrata vi vado a dire anche il nostro rendimento sulle pick selezionate nel podcast da luglio a dicembre 235 pick esatte 197 sbagliate 5 rimborsi tutto questo si traduce in un più 70,22 unità di profitto è un ROI del 6,82% vediamo ora le 4 free pick che vi abbiamo selezionato per oggi anzi vediamo che non ne sia uscita un'altra live dalla nostra redazione in questo momento sembra di no sembra di no ok quindi andiamo allora solo una di calcio perché c'è veramente poca roba e 3 di hockey iniziamo dal calcio Zanardi il nostro Zanardi 20 casse nelle prime 24 pick date finora sta andando alla grande lo avevamo già anticipato andiamo in Galles Balatown contro Carnafon giochiamo sulla vittoria del Balatown a 1,60 stake 3 abbiamo detto andiamo sulla vittoria dei padroni di casa terza forza del campionato di calcio gallese il Carnafon invece dopo 3 vittorie si è fermato nell'ultimo turno è al quinto posto è motivato per difendere la top 6 però ha sempre perso nelle ultime due sfide contro il Balatown che è una squadra superiore e in casa secondo noi vincerà un'altra partita la quota non è altissima però ed è fra l'altro anche in discesa però a 1,60 intorno a 1,60 è ancora giocabile stake 3 passiamo con le tre giocate di Insider sulla KKL iniziamo da CSKA Mosca contro Lokomoti Yaroslav andiamo con CSKA over due e mezzo gol a 1,55 stake 3 quindi andiamo con almeno tre gol segnati dalla squadra di casa contro Yaroslav che negli ultimi giorni di mercato ha perso una serie di giocatori davvero importanti quindi si è molto indebolito il CSKA invece è primo nel gruppo Ovest ha un attacco che ha segnato 120 reti in tre delle ultime quattro partite il CSKA ha messo a segno tre o più reti allo stesso modo anche lo Yaroslav ha concesso tre o più gol in tre delle ultime quattro partite a settembre a Mosca lo Yaroslav ha perso 5 a 2 speriamo di vedere un risultato del genere se volete rischiare qualcosina di più potete giocare anche l'over 3,5 del CSKA Mosca qui la quota supera il 2 quindi pensateci è sicuramente molto più magari abbassando lo stake perché è sicuramente molto più solida la giocata su over 2,5 per il CSKA Mosca chiudiamo con Yokerit Podolsk qui abbiamo due giocate da darvi vediamo la vittoria dello Yokerit nei tempi regolamentari quindi 1x2 a 1,61 stake 3 e vediamo anche over 4,5 a 1,70 stake 2 giochiamo quindi sui padroni di casa vincenti nei tempi regolamentari lo Yokerit che è al quinto posto con 53 punti deve riprendersi dalla sconfitta in over time a Sochi mentre il Podolsk è ottavo con 47 punti e ha perso le ultime 3 partite e 4 delle ultime 5 il Yokerit ha vinto 5 partite di fila contro il Podolsk e lo ha sempre fatto nei tempi regolamentari qui giochiamo anche over uscito in 9 delle ultime 10 partite dei padroni di casa dall'altra parte il Podolsk ha una difesa che concede molto e non per niente sono arrivati 4 over nelle ultime 6 partite anche per il Podolsk infine vi segnalo che Yokerit e Podolsk hanno messo insieme 5 over negli ultimi 6 precedenti quindi speriamo di vedere un'altra partita con almeno 5 gol totali e vinta dallo Yokerit nei tempi regolamentari io sono arrivato in fondo anche oggi vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata buona giornata vi rinnovo l'invito domani con l'ultima puntata del 2019 che altro mi rimane da dire fate buone scommesse puntate sempre con la testa ciao ciao